Allora, io vorrei cambiare una cosa molto importante, che è quei... Ciao a tutti, sono Antonio Giuliani, sono un attore italiano, nato e cresciuto e vivo ancora a Roma. Sì, è la mia prima volta e devo dire che non sarà l'ultima, forse non so neanche se ritorno in Italia, cioè mi fermo qua, mi è piaciuto talmente tanto, me ne avevano parlato molto bene, non solo della gente, ma anche della città e effettivamente è una delle poche volte dove la gente ha ragione. In Stamula è veramente ok. Allora, il mio talento speciale è la comicità, far ridere le persone e questa è una cosa che ho sempre avuto fin da bambino. Allora, il mio più grande traguardo è stato nel 2001, quando ho fatto il mio spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma, nella Curva Sud, dove c'erano, credo, intorno alle 14.500 persone, quindi tutte paganti. Allora, io vorrei cambiare una cosa molto importante, che è questa qui, cambiare questo aspetto a cui tengo molto, insomma, questo cambiamento. Professor Serkan, perché tante persone parlavano dei trapianti qui in Turchia, però su 10 persone, 9 mi dicevano di venire qui dal professore, perché è il più bravo di tutti, è quello che dà più certezze, ma non lo dico perché sono qui, perché è veramente così, quindi il suo nome da noi è grande, quindi sono venuto qui per questo motivo qua. Per un risultato perfetto. Il mio momento più divertente, ce ne sono tantissime, specialmente nel mio lavoro, però posso dire che quando sono venuto qui, ad Istanbul, il momento più divertente è che su 10-12 persone che siamo venute qui a fare il trapianto, mi hanno riconosciuto tutte le persone che non sono di Roma e solo uno di Roma che non mi ha riconosciuto e gli altri gli hanno dovuto dire chi ero, questo mi ha fatto molto sorridere e mi ha fatto molto ridere. Niente, allora, sono molto felice di essere qui, ci ho messo un po' a decidermi, però poi alla fine sono arrivato qua e potevo farlo anche prima, non vedo l'ora perché già so che tornerò con il ciuffo, con la giacca quella con le frange, con la chitarra e fa one song, for one song, for one song, tornerò così, perché so qua che professionalità c'è e che sono veramente i più grandi. Evviva Serkan e viva soprattutto Istanbul. Ciao!